allora vediamo l'occorrente che ci serve per realizzare gli orecchini avete bisogno di super duo io le utilizzerò in due colori nere e gialle così poi avete bisogno delle rizzo io sto utilizzando queste che ho preso da desideri di cristallo sono sempre nei toni del giallo poi 4 mezzi cristalli da 4 mm li sto utilizzando sempre i neri poi delle rocaille 8.0 e delle rocaille 11.0 il codice di queste gialle è questo è il 422 Miyuki che ho acquistato da grande con azzurra poi avete bisogno di un ago da tessitura io sto utilizzando questi e del filo di nylon 0.16 e ovviamente due monaghelle allora ho chiuso a cerchio il lavoro e mi sono portata ad uscire con l'ago dal foro superiore di una delle super duo quindi sto uscendo da questa super duo qui inserisco sull'ago una rocaille due super duo e un'altra rocaille e esco con l'ago e mi inserisco nel secondo foro della super duo subito dopo e tiro il filo devo ripetere questo passaggio aspettate che giro il lavoro ok questo passaggio per tutto quanto il giro quindi rocaille due super duo rocaille e mi inserisco in quella successiva di nuovo rocaille rocaille due super duo rocaille e foro successivo ok ultima volta rocaille due super duo rocaille e mi inserisco e mi inserisco nell'ultimo foro libero ok quindi adesso devo soltanto ripassare il filo in questo ultimo giro per rafforzarlo un pochino allora ho fatto un giro per rinforzare un po' il lavoro adesso mi devo portare ad uscire da uno dei fori superiori quindi in questo caso io mi inserisco in questa super duo allora se uscite andando verso questo spazio dovete inserire tre super duo e passare nella super duo in punta se vi trovate invece ad uscire fra le due super duo che vi trovate già inserite cioè queste due dovete inserire due rizzo aspettate che ok non riuscivo a prenderli quindi mettete le due rizzo e tirate bene il filo quindi quando avete lo spazio più grande inserite le tre super duo mentre fra le due super duo che avete inserito nel giro precedente dovete inserire il rizzo quindi completate con questa sequenza tutto il giro quindi avremo rizzo due rizzo tre super duo due rizzo quindi ripassate di nuovo per rinforzare il giro allora dopo l'inserimento delle perline di questo giro ci troveremo che il nostro modulo sarà fatto così vi portate ad uscire da una delle rizzo mettete una super duo sul lago e vi inserite nel foro superiore della super duo subito dopo e tirate il filo dopodichè inserite altre super duo tra le super due esistenti quindi di nuovo quindi di nuovo una super duo un'altra super duo poi mettete sul lago un'altra super duo e vi inserite nelle due rizzo in questo modo in questo modo quindi dovete trovarvi ad avere inserito quattro super duo in questo giro quindi di nuovo state uscendo dall'arizzo inseriamo una super duo la seconda la terza la terza ok e inseriamo la quarta entrando nelle due rizzo successive ecco qui perfetto quindi ripetete questa sequenza per tutto il giro vi ricordo che le rizzo devono venire fuori rispetto alla lavorazione come in questo caso qui vengono fuori vedete perfetto completiamo il giro e ci rivediamo allora ho completato l'inserimento delle quattro super duo ad ogni lato ora sto praticamente uscendo da questa rizzo mi porto con l'ago nel foro superiore di questa super duo e adesso vado ad inserire le super duo del secondo colore che avete scelto nel mio caso il giallo come l'erizzo quindi metto le tre super duo negli spazi che mi trovo due e tre perfetto mentre in questo spazio collegherò questi due super duo aggiungendo tre rocaille 8.0 ok quindi di nuovo le tre gialle quindi uno due tre e in questo spazio vado a mettere le 3.8.0 facendo sempre in modo che le rizzo rimangano anche in questo caso ok perfetto che rimangano all'esterno quindi continuo inserendo adesso le tre rocaille e le tre super duo gialle tre rocaille e tre super duo gialle allora siamo arrivati a questo punto in quale ho ripassato il filo per irrigidire il componente e sto uscendo da una delle rocaille 8.0 centrali quindi noi per collegare queste due super duo abbiamo inserito tre rocaille 8.0 mi sono portata ad uscire dalla rocaille di punta quindi inseriamo sul lago 4 rocaille 8.0 e entriamo nella super duo che vi trovate più vicina e torno ad inserire le rocaille nere insomma io sto usando questa geometria quindi due rocaille nere cioè due super duo nere e di nuovo quattro rocaille e mi inserisco nella terza rocaille che mi trovo nella seconda rocaille scusate che mi trovo nel passaggio successivo quindi nella sequenza successiva sto usando quindi sempre da la rocaille di punta e metto di nuovo quattro rocaille qui di nuovo alterno alterno le super duo nere in questo modo e di nuovo quattro rocaille e mi inserisco e mi inserisco sempre sempre nella rocaille centrale che mi trovo subito dopo ecco qua quindi termino in questo modo tutto il giro quindi mi inserisco con quattro rocaille nella super duo nella super duo inserisco le due super duo quattro rocaille super duo super duo fino a terminare il giro ho terminato l'inserimento delle rocaille e delle super duo mi porto adesso ad uscire con l'ago da questa super duo da questa rocaille scusate sto uscendo esattamente da questa noi ne abbiamo inserite quattro quindi dalla seconda inserisco sul lago una 11.0 e rientro nella rocaille successiva vediamo se riesco a farmi vedere me eccola qui adesso noi andremo ad inserire in punta quindi al centro delle rocaille 8.0 appena inserite una 11.0 quindi rientro in tutte le berline e riesco sempre qui a metà e inserisco una nuova rocaille quindi rientro in tutte le berline le berline e mi riporto sempre al centro di queste quindi inserisco la 11.0 e riporto ripasso in tutte le berline fino sempre ad uscire dalla seconda delle 8.0 quindi termino in questo modo tutto il giro ecco qui ho terminato anche l'inserimento delle rocaille 11.0 ora siamo allora ho completato il giro riporto quindi ad uscire da una delle rocaille che mi trovo in punta ed inserisco una rocaille un cristallo da 4 mm e un'altra rocaille e praticamente mi inserisco nella rocaille 11.0 subito dopo e tiro il filo quindi a questo punto invece dovrò inserire in questo spazio quindi quello che va dalla punta della rocaille alla superduo questa sequenza quindi due rocaille una rizzo e altre due rocaille e mi inserisco nella superduo e tiro il filo e tiro il filo fra le due rocaille le due superduo invece vado ad inserire 3.8.0 e mi porto nella rocaille nella successiva superduo ce la posso fare ce la posso fare poi dalla superduo alla punta della rocaille mettiamo due rocaille una rizzo e due rocaille e due rocaille questa sequenza qui e mi porto nella rocaille gialla in punta quindi questa è la sequenza che dobbiamo inserire quindi ricapitando usciamo dalla punta gialla questa qui da questa rocaille gialla e inseriamo sul lago 11.0 cristallo da 4 mm 11.0 e mi inserisco nella punta gialla successiva dopodichè metto sul lago due rocaille una rizzo due rocaille e inserisco in questa superduo fra queste due superduo inserisco tre rocaille 8.0 di nuovo due rocaille rizzo due rocaille e mi inserisco in punta quindi ripetiamo questi passaggi quindi aspettate che sono finite le rocaille gialle gialle eccole qui bene quindi ripetiamo insieme il passaggio che vi ho rispiegato sto uscendo da questa rocaille in punta quindi inserisco sul lago rocaille cristallo rocaille e mi inserisco nella rocaille gialla successiva e tiro il filo poi due rocaille rizzo due rocaille rocaille mi inserisco nella superduo e tiro il filo poi tre rocaille e mi inserisco nella superduo di di nuovo due rocaille rizzo due rocaille e inserisco nella rocaille gialla quindi ripeto questa sequenza per altre due volte e poi ripasserò il filo per stringere bene il lavoro dentro ho terminato il nostro giro e mi sono portata ad uscire da questa rocaille 80 per poter fare il cappietto ho inserito sul lago 6 rocaille e rientro nel verso opposto per creare l'anellino ecco qui quindi ripasso all'interno delle berline appena inserite più volte ovviamente per fare in modo che il nostro cappietto sia resistente ecco qui poi mi porterò ad entrare in altre berline e poi farò un bel nodo ok quindi il pendente è terminato qui potete inserire l'anellino per poter inserire la catena o come anche nel mio caso dove ne ho realizzati due per poterne fare degli orecchini grandi inserirò direttamente la monaghella spero che il tutorial sia stato utile sia stato utile e come sempre ci vediamo la prossima volta ciao ragazzi di che ho che ho Grazie a tutti